grazie no non ci sono ma io voglio 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 la rota io farei una panoramica la rota ma io l'ingampato ehi avanti il prossimo vuoi fare questo? no sto facendo un video come al solito e questo secondo te c'ha 20 anni che dovrei averci io io andrei a scaricarlo giù la sa onda posti in te come è venuto come fu bifurro vado a dire i giochi voi li conoscete giudate le peda bucate tu e siete contenti vabbè ma io stai dire la quantità fa la prima tua tu cazzo mette la tazza vado a dire brutto ebreo no 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 vado a dire è navida è navida è navida sempre grazie 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 grazie